ieri pomeriggio intorno alle 14 e 30 presso la centrale idroelettrica sita nell'appennino bolognese sul lago di suviana si è scatenato l'inferno in questa centrale che produce energia elettrica grazie al movimento dell'acqua c'è stata un'esplosione esplosione sotterranea che si è verificata al piano meno 8 causando un grandissimo incendio ci sono stati dei crolli che hanno travolto i 12 tecnici tutti i ditte esterne che erano al lavoro per adeguamenti della centrale tre persone sono morte e ora si cercano quattro dispersi guardiamo i video realizzati dai vigili del fuoco i quali prima erano in 60 poi 66 e alla fine in 161 di questi inviati in rinforzo dalle regioni limitrofe grazie a tutti 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 Non c'è solo questo. Qui sì, dopo adesso c'è una giocattura. No, no, la leghiamo. Aspettami. Facciamo un po' di più. Facciamo un po' di più. Non si verso. Allora, io provo a mollare. Io provo a mollare. Allora, questo è un po' di più. Qualcissimo. Allora, io provo a mollare. Allora, l'unica possibilità è attraverso questo polso. Grazie Grazie Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento E se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale